i giochi, le demo dello Steam Next Fest avvenute appunto durante il periodo dello Steam Next Fest e voi che vedrete questo video su youtube come dico ogni giorno e andrò avanti a dirlo per le ultime demo lo vedrete distribuito in modo un po' più una al giorno allora blind run totale quindi scopriamo un po' questo gioco allora moving world bello comunque mi piace la grafica space dash perfetto ah vi fa dash ok ah perfect dodge perfect dodge ok e non è andata benissimo ah perchè comunque tutte le onde gli fanno gli creano qualche piccolo problema ah cioè io poi ma che bello quando lanci le va bene fico molto carina ok dobbiamo scegliere questo no you get one combo point when attack combo point when you attack in two different skills ok ah uuuuuh bello bello anche l'animazione comunque molto carina però come faremo come faremo da raggiungere come faremo da raggiungere ah proprio deve essere distrutto questa cosa ok 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 perché non possono come faremo ok ok bello questa cosa l'abbiamo capito ma non è che ci devi fare il 57 mori ma sti ma sti f, hai stovato il maximos bello ragazzi è molto carino facciamo già chiudere qua perchè ormai è chiaro quello che c'è da fare in questo gioco abbiamo già apprezzato le sue caratteristiche no forse non dovevo proteggerla un amico un po' troppo debole ho guadagnato un altro il 26% di damager non piace piace like it allora il 50% di critical di hit gem burning enemies dash does not clear combo point when casting despair 2 focus despair repeat 2 additional time 3 focus non capisco non capisco però vediamo questo peraltro non mi è chiaro quando quando c'è il focus abbiamo una nuova magia che si sblocca bella ah ecco infatti vedete focus after perfect dodge you get 2 focus quindi avrei dovuto prendere ho preso quella del focus no vabbè you get 2 focus è una persona eh sì è bella è tutto sul perry oh no non ci credo ma tutto automatizzato non è fantastico questo è un combattimento di pura qualità porca di quella puttana bello cazzo c'è da premere un po' troppo il mouse francamente però tra l'altro è un gioco che vi fa fare il dodge perfettamente a tutto il mio rispetto perché è una cosa piuttosto complicata devo dire da farlo da vedere in tanti giochi in cui effettivamente questa cosa avviene che generalmente i tempi del dodge sono quasi sempre sbagliatissimi pochi giochi ce l'hanno tipo i souls o l'unico se volete come vi ho detto difetto è proprio legato al a dover premere 150 volte mi ha ucciso però ragazzi abbiamo chiaro il gioco molto bello molto piacevole ben costruito secondo me ci sta lo wish listo grazie a tutti al prossimo video e ciao grazie a tutti grazie a tutti